Perché in effetti la storia è questa, a un certo punto Luciano Toglioli, vedrete è molto bello, corteggia la moglie che era una ragazzina molto giovane, aveva 16 anni quando l'ha incontrata, si sposano e vanno in viaggio di nozze a Roma, se non che non avevano molti soldi per poter andare avanti, per cui hanno passato i primi 3-4 giorni, tanto la notte di nozze è stata una vera tragedia, perché fate conto che arrivano in questo albergo e la signora Lina dice, appunto Luciano, ti sei ricordato di prenotare? Si, si, ho portato la camera d'albergo, ma arrivano, invece era tutto pieno assolutamente, noi siamo appena arrivati febbraio, fate conto, una roba tragica, del 43, per cui non c'è niente da fare, l'unica cosa che possiamo fare è mettervi qui, se accettate, potete dormire nella sala dell'albergo dove mangiavano, per cui gli hanno messo due brandine con un piccolo paravento davanti e la prima di nozze è stata questa, immaginate. Il risultato è che lo passano i due o tre giorni, poi lui non era ancora famosissimo, non era ancora arrivato ad essere il tagliolo che sarebbe poi diventato, mancano i soldi, fanno i conti e si rendono conto che sono prigionieri dell'albergo, nel senso che non possono andarsene via, perché non possono pagare l'albergo. Allora dice, guarda, tanto qui mi conoscono, questo giro io l'ho già fatto, dice lui, o prima o dopo qualche cosa per lavorare, pagare, lo troveremo. Ma intanto non potevano fare niente, stavano in un albergo, andavano, tornavano, arriva marzo, come di voglia arriva un piccolo impresario, un impresario che stava da quelle parti e diceva, ma scusa, ma perché non mi hai avvertito che eri a Roma? Io ti devo far fare delle cose, devi andare. E lui andò a cantare al Brancaccio, dunque arriva il Brancaccio, si mette a cantare e in quello stesso teatro, avrebbe incontrato poi un ragazzino di 17 anni, un certo Claudio Picca, che passando vicino a lui, cantava anche lui, iniziava la sua carriera e allora Luciano gli disse, sei molto bravo sai Claudio? E lui risponde, sì sì lo so, lo so che sono bravo, era Claudio Villa, ragazzino, è stato il loro primo incontro. Il risultato è che canta al Brancaccio e improvvisa tutto in pochissime ore e tra le due canzoni, ce ne erano due, cantava Ho messo il cuore nei pasticci con l'amore e poi Malinconia d'amore, che era un pezzo di Rabagliati che andava fortissimo ed è stupendo, un pezzo scritto da Danzi, credo, giusto Vilma? Sì. L'ascoltiamo subito, eccolo qua, Malinconia d'amore, Vilma Reantelli. Malinconia, malinconia d'un cuore senza pace, malinconia di chi non ha fortuna e canta mentre intorno tutto tace e canta per le stelle e per la luna qualinconia d'un cuore. L'amavo tanto, l'amavo di un amore sincero e puro e l'adoravo come un fiore raro, ma il giuramento suo non era vero. Ed ora sulle mie labbra c'è l'amaro, amore caro. Bene, questa era Malinconia d'amore, bellissimo pezzo. E così Taglioli riuscì a trovare i soldi e a poter tornare indietro. Però la vita, devo dire, per Luciano non era stata facile. Con la storia che aveva avuto la poliomelite, pensate, e c'è poco da fare, molte volte, come ho spesso cercato di ricordare, l'imbecillità della vita dell'uomo è molto lunga, poter uscire dalla stupidità, dai cosi. Pensate che una volta nemmeno le persone con gli occhiali si mettevano in televisione perché si sa che non devono essere, o quelle con i baffi, chi lo sa perché. C'era sempre, l'uomo ha sempre bisogno di discriminare, di allontanare, di ferire, di fare del... Qualche cosa deve avere. Poi ha anche i lati buoni, ma ci sono questi che sono terribili. Per Luciano fu una cosa assolutamente, una sofferenza che non c'è so mai, per tutta la vita. Fate conto, abbiamo parlato prima degli inizi, quando era il caffè crema, quando stava al vigentino, eccetera, che cercava di muoversi, viene a scoprire che al teatro, Odeon, al teatro, non la casa escografica, fanno un concorso, allora lui si presenta, si iscrive perché vuole fare questo concorso, e si presenta, ripeto, alla porta del teatro. Arriva lì e non lo vuole lasciare entrare, il portiere dice no, lei non entra. Dice come non entro, io devo fare il concorso, guardi, no, lei non può mica una cosa di questo genere. Ma guardi com'è, ma non avrà mica il coraggio di andare in palco, ma rendetevi conto, poi con che faccia uno si rende conto di dire una cosa di questo genere. E Luciano dice no, io mi sono iscritto, devo cantare, eccetera. E arrivò il proprietario del teatro, che era un signore, non ricordo, Mazzoretti, mi pare un nome di questo genere. E allora lui, Luciano, spiega tutta la sua situazione, risultato che allora questo dice, ma sì, fallo andare, tanto pensate alla frase intelligente, è il cantaminga con il bastun, non canta con il bastone. Proprio una cosa che uno si gira, ti tira un pugno, ti stende, sarebbe la giustizia è fatta, no? Sarebbe giusto? Lui va e vince il concorso, lo vince. Quindi viene fuori, la gente comincia a parlare, taglioli, ma già lo conoscevano a Milano, era già una bella piazza, molto nota per lui. Allora arriva un signore che parla un italiano un po' stentato, lo prende, gli dice, siamo un poco prima della guerra, gli dà il biglietto e dice, venga all'Odeon, casa discografica. E alla casa discografica lui poi sarebbe andato, fa il provino, lo sentono, eccetera, e però non sa più niente. Quando torna tempo dopo per dire, guardi che io qui avevo la cosa per fare il disco, gli dicono, no, l'hai tanto così non può, sempre il solito problema della gamba, eccetera. E poi, sa chi gli ha dato quel biglietto? Un inglese, e gli inglesi sono tutti porci, perché cominciavamo la guerra, chiaramente eravamo alla vigilia, per cui anche quella è stata la fine della sua cosa. Immaginatevi come sono stati gli inizi, mica male, ma ce n'è di più. Andiamo, per fortuna, girando con la storia, arriviamo a un momento bellissimo, quando superate tutte queste cose, ma le faremo passetto per passetto, perché sarà utile anche per noi capire quando vogliamo fare qualche cosa e veramente la desideriamo, come non sia facile arrivarci. Ma passetto per passetto, grazie anche a Carlo Alberto Rossi, che è qui di fianco a me, ma poi ce lo spiegherà meglio, arriviamo al Festival di Sanremo, in coppia con Betty Curtis, dove per fortuna vincete il festival. 1961, al di là, no? Si riesce a vincere questo festival. E' una coppia che è un po' particolare, perché lui era, il cantante melodico, era giovane, quasi esordiente, diciamo. Però tu dovevi cantare con Dallara questa canzone all'inizio. Io dovevo cantare con Dallara, sì. Dopo invece, come tu sai, che ho già raccontato anche l'altra volta, lui... Le carte, per fortuna, girarono. Girarono e lui era convinto proprio di vincere. Era una cosa addirittura... Ma come, andò addirittura da... Siccome sapeva che Mogol non lo voleva, andò a casa di Mogol e disse guarda, io ti farò questa canzone talmente bene che ti garantisco la vittoria. E' vero, anche a me lo disse questo. Poi sai che mi proibiva, quando abbiamo vinto poi, ne facciamo gli spettacoli, ti questa sera te canta e no al di là. Perché? Non canta questa sera al di là. Non voleva che la cantassi io, voleva sempre cantarla lui. Poi non... La prova magnifica questa cosa. Poi non so cosa ho fatto una volta. Dunque, non contento di cantare al di là sempre. Mi rompeva un po' le... Se le scatole. E beh, insomma, a un certo punto. Mi dice, posso cantare anche Sherry Oh? Eh no, lo ha detto io, scusa, adesso basta, dico. Ti vorrà portare via un pezzo del pezzo. Anche quella, ma io la so, l'ho imparata sta canzone. Perché era la sua passione. Però era molto ironico, era molto spiritoso e poi era uno che si prendeva in giro. Non ti faceva sentire assolutamente il suo problema, insomma. Era uno che viveva in un modo... Era normale. Sì, mi diceva una cosa che non posso dire. Perché? Eh no, dai. Vabbè, vabbè, cambia la parola, ma facciola capire. Te che di bei te. Hai un bel seno. Sì, ma dire un bel seno... Dire un bel seno non è una cosa proprio così forte. Te che di bei te. Ti diceva sempre questa cosa. Poi c'era una cosa bellissima che faceva Dorelli, no? Che era molto amico, perché il padre era amico di Taglioli. Di Luciano, sì. Papà di Gianni Dorelli era amico di Luciano. Era amico di Luciano. E lui, mi ricordo, una sera in un ristorante, aveva il bastone sempre qui. E lui lo portava via e diceva adesso vieni a prenderlo se sei capace. Ma non è vero. E lui ci andava. No, eh no. Adesso lo faceva star male per un po', no? E dopo alla fine glielo buttava lì e lui diceva la prossima volta a me... Perché loro parlavano sempre milanese, solo in pubblico parlava italiano, ma nella vita così era sempre... parlava sempre in dialetto. Era rimasta questa... evidentemente questa abitudine, questa radice... Questa abitudine, è nata in una casa di ringhiera, credo. Sì. E gli era rimasto proprio questa... questa Milano nel sangue, questa... Che poi non mi pare che fosse nato vicino a Milano. Non era proprio Milano. Era un po' arioso. Sì. No, 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 ma era veramente, devo dire, un personaggio... Poi era anche un uomo d'affari, eh. Come no? Perché aveva perso una fabbrica, mi pare di... Eh, quando aveva cambiato un po', sì, carriera a un certo punto, se l'ha messo, lo so, col fratello, poi dopo si è ripreso. Ma io volevo dire, allora, non ti lascia mai cantare al di là. Facciamo una cosa, ne cantate metà per uno? No, non la voglio vedere però. Allora, proviamo un po', dai, forza. Vabbè, allora Luciano Taglioli, al di là. Io ne vedo mai. La facciamo cantare a lui.